8 sono altri due cuori, 108 sacrari siamo, senza contare tutte le sfide che abbiamo, non so quante ne abbiamo infatti, in realtà abbiamo ancora da fare quell'altro sacrari con la palla di neve, che mi avete detto come teoricamente provare a farlo, non so se l'avete visto da qualche parte, non ho ne idea, però io li prendo sempre come... potrebbe essere così, potrebbe andare, potrebbe funzionare così, cos'è laggiù? Ah, il sacrario, io li prendo sempre per quello, questo possiamo toglierlo, siamo qua, siamo arrivati... ok, questi qua erano i tre cosi, vero? Sì stagno la spigo, allora aspettate, io devo andare qua dai gemelli adesso, voglio vedere se c'è quel ricordo, se troviamo il ricordo... un'ora e mezza, un'ora e mezza, però con i tagli probabilmente tolgo un quarto d'ora circa, o dieci minuti, perché sì, ho girato tanto, cioè ho girato nel senso i viaggi per andare nelle zone dieci minuti almeno se ne vanno, se troviamo il ricordo, chiudiamo la parte, o forse, se troviamo il ricordo, poi andiamo a prendere il sacrario là, della palla di neve, ci proviamo e che esca o non esca, chiudiamo poi la parte, la chiudiamo là comunque adesso a me serve lo stagno non è questo, ok? ok, non è il lago Naui Sud è questo aspetta, fammi rivedere l'immagine è davanti a una rovina, lì c'è un pezzo di rovina, ok? quindi a noi ci basta trovare, semplicemente, delle rovine e le rovine, contando che è dritto, per dritto, per dritto, no, teoricamente è un po' spostato a sinistra no, davvero, è il Naui? Non è il Naui non è il Naui proviamo ad andare giù per di qua, aspetta, i gemelli devo tenerli dietro e abbiamo visto che è un po' spostato a sinistra per cui restiamo ha! ha! volevo farlo ok? non mi giudicate allora io ho i gemelli dietro quindi la prima rovina che trovo al lago, davanti anche se non ci vedo niente è là è quella aspetta, eh ma qua c'avete uno scrigno, ragazzi aspetta, 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 aspetta che faccio una bella cosa lì c'hanno uno scrigno loro, no? eh, a me serve c'è un conto è se mi devo fermare apposta un conto è se ci passo davanti The boblini sleeps tonight Che cacchio ha fatto a non ucciderlo Ma c'avevano Oh Amico ma c'hai problemi se non mi hai visto Cioè no E' figo perché non l'ho visto io Quindi era nascosto bene In realtà no non ci ho guardato proprio Non ci ho fatto caso Però è stupido perché Vabbè davanti ci sono passato Mi dispiace Hai fatto sterminare il tuo campo Per un tuo errore La colpa è tua Ok Mi dispiace La prossima volta Sarai più attento Devo dire Questa me la ciappo però E' qua No che cacchio è Mura Ponte appresso Appresso a che? Ma che sta a dire Qua c'è un guardiano Allora i gemelli sono là Il guardiano praticamente Non dobbiamo contarlo Vero? Il guardiano non esisteva Ok Ok Cacchio ma se si fosse un po' di luce Che ore sono? Mezzanotte Che palle Nelle luce scordiamocela Ciao Eh sì Questo non l'ho segnato Questo non l'ho visto Allora 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 Oh 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 Compari? Va bene Oh, l'ho chiamato L'avevo chiamato, eh Va bene, userò la fuori di rubosa anche No, aspetta, cosa? Perché si è spaccato? Perché si era spaccato? Oddio, non gli ho tolto niente Che sta succedendo qua? Cosa stava succedendo? Perché lo continuavo? Vabbè Dammi tutto ciò che c'hai No, non capisco Perché si è spaccato lo spadone? Perché questo non funziona? Raga Oh Perché non funziona? Vabbè Ok È Locom Dai, è Locom allora È Locom Quei relitti lì Ma io ci sono già stato a Locom Un giorno No, comunque Perché non era partita la fuori di rubosa? Perché avevo saltato Può essere? Può essere che saltando Ho annullato la fuori No, non lo so Vabbè Comunque le montagne erano più Erano più lontane Ok Ma a me fa strano Aspetta Ah no, la luce Sono tante luci comunque Scusa Ma io dove devo andare? Cioè l'unica che mi viene in mente è lì È lì dietro a sto punto Cioè Da Non si trova Io c'ho caldo Eh C'ho caldo E non mi fate trovare pure le cose 1 ore 40 Perché poi io penso sempre No Al Al video che poi deve uscire No Adesso non è qua Però no In giro E penso sempre che poi Cioè Io devo fare parti di Mezz'ora Cioè nel senso Se registro un video di Un'ora e mezza So che mi escono tre parti Poi se taglio qualche pezzo Schifoso Ah qua ci sono già stato Questo è quello del Del gigante lì C'è il robo di pietra C'è il sassoroc Lì c'è il sassoroc Eeeh Ok Ma Cioè È È da quella parte No è di qua Da qualche parte di qua Sicuramente questo È il È l'altro pezzo Quello che si vede Lì c'è il sassoroc Allora è dall'altra parte Dall'altro lato Ma non c'ho voglia Di combattere il sassoroc Infatti eccolo Però lui sta di qua Ora Dritto per dritto Quindi da qualche Parte di qua Eeeh Lì 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 Stronzi Lasciatemi stare Qua Qua Eccolo Ma cacchio C'è un bucanato in mezzo alla foresta Adesso no Voglio provare anche quell'altro nel bosco Perché Quell'altro nel bosco Sarà Un delirio Trovarlo Partendo dall'idea Che bosco Eeeh Quello Sì Esattamente quello Io pensavo fosse a riva Io pensavo il saltino fosse sulla riva del lago Per quello non lo trovavo Da qui si va alla città dei Goron Devo Cercare di ottimizzare la sintonia Tra il campione da Rook E il suo colosso sacro E' già riuscito a pilotarlo con successo Ma ci sono ancora troppe cose Che non sappiamo Quel colosso E' stato costruito da persone come noi A me verrebbe il nervoso A parlare con uno che non Non parla Cioè sembra parlare con un muro praticamente Un muro consenziente Riusciremo ad annientare la calamità a Ganon Io ne sono convinta Dimmi la verità Sei davvero così bravo come Deacon A usare quella spada E la voce Che è già dal suo interno Riesci a sentirla Sì Sono pazzo Sento di voce io Ottimo E un altro ricordo è stato trovato Gioiamo Eeeh Eeeh Questo sembrava più un cavallo Che... Vabbè Allora... No, no Link Allora Ci mancano due ricordi Vero? Dico bene? Vai dal tuo amico Dico bene? O dico bene? Due ricordi Una fata Ci manca una fata Anche, è vero? Questa è la zona iniziale E... Però aspetta Io avevo visto un'altra cosa Che dovevo fare Perché che sono finito poi? In mezzo Dovevo fare un'altra cosa Che però non mi ricordo cosa Qua al monte Ci eravamo andati Vero? Sì Qua c'era la... La coppia che scoppia Non siamo più andati Però Al cuore spezzato Qua a Leban Vabbè Ci andremo la prossima volta Tanto dobbiamo fare il giro lì Io mi ricordo di una roba Che dovevo fare Ma non mi ricordo cosa L'avevo detto prima eh Ecco sì La pala di neve era Giusto? Bravi ragazzi Che me l'avete ricordato Grazie Grazie mille Voglio provare A... Forse se ci va bene Anche pomeriggio adesso Non ho visto bene C'è il sole Però non vorrei che fosse l'alba Dato che l'alba Arriva alle 4 Però se ci va bene È pomeriggio E non mi ricordo l'orario Tipo verso le 5 forse era O verso le 6 Si apriva il portale Io devo andare lì Con la pala di neve Mi avete detto Mi avete scritto voi eh Voi l'avete fatto Io Io seguo Cosa mi dite voi Se è sbagliato Vi meno Lo sapete Cioè funziona così Da sempre Quindi Vado direttamente là Non so dov'è però Di qua Ok E poi Vediamo se funziona Tutte con le mani al cielo Tutti Con le mani al cielo Apriti Apriti No Popolo della terra Pop Stai zitto Popolo Popolo Oh se Dai 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 Si Si Grande Chi me l'aveva detto Non mi ricordo più Grande Grandissimo Cioè Qua Goku Quando fa l'energia sferica A casa Muto anche In silenzio Vabbè Arrivano messaggi a casa Grande 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 Ti Ti zitto Ti ho svegliato Scusa Volevo Non volevo Forse Suma Sama Suma Sama Suma Sama Forse Suma È un tizio Si usa il Sama Per Di un alto Grado Che ne so Vabbè Niente Sono diventando scemo Sono pazzo Benedizioni di Suma Sama Non ci sarà dentro niente Ovvio Almeno c'ho lo spazio Grazie Almeno quello Siamo a nove Basta Abbiamo fatto Tanto Due ore Va bene Due ore Oh ho detto due ore Io faccio due ore di registrazione Fuck yes No no Non me ne frega niente Faccio le mie due orette di registrazione E Ciao Belli Fratelli È stato bello 109 sacrari 190 korogu 190 korogu Sembra un gran numero Ma Non mi fa piangere Davvero È È impossibile È impossibile Non posso Non posso Crederci Non ci voglio credere È impossibile Punto Ma no Noi li facciamo tutti E voi Venite con me A farli tutti Eh Ah no Non me ne frega niente Io li faccio tutti Ci mancano poche cose da fare Ok In realtà non so se possiamo andare a prendere il ricordo qua al castello Anche Probabilmente sì Ma forse sarà l'ultimo che farò Ce ne mancano ancora due Uno è al bosco di qualcosa Da qualche parte E uno lì al castello appunto Ci mancano quei due Poi ci mancano 11 sacrari Che non sono per niente tanti Calcolando che di quegli 11 5 ce li abbiamo già Quindi sono 6 solo da trovare 6 Cacchio Sono tanti Probabilmente Sapete che è vero che arriveremo a 118 119 sacrari E partirà la ricerca delle sacrari Perché non lo trovo Ci scommetto Tanto lo ricercheremo E magari ricerchiamo anche tutto Dobbiamo fare un sacco di robe Però basta Adesso mi fermo qua Noi ci vediamo alla prossima parte Zelda Brief of the Wild Qua da là non fa tutto Ciao a tutti Savak Fa caldo Ciao a tutti